Ciao a tutti, io sono Kant, benvenuti sul mio canale YouTube Dress2Punks e quello di oggi è il videospiegone di giugno 2019. Piccolo recap per chi fosse nuovo, quella di videospiegone è una serie del mio canale dove ogni mese vado un po' a riepilogare le news in abito punk rock che personalmente ritengo più rilevanti. E a quanto pare giugno è un mese abbastanza rilevante perché ho dovuto scrivere 4 casse di foglietti pieni di news quindi non perdiamo tempo e partiamo subito. Iniziamo parlando dei celebermi Strongout che hanno fatto uscire un nuovo pezzo che si chiama Duggers che è un'anteprima di quello che sarà il nuovo disco che si chiamerà Songs of Armor and Devotion Allora ho visto nei commenti del video commenti molto molto entusiasti per questa canzone che personalmente a me non è piaciuto tanto cioè, sì il pezzo è carino eh però sembra sempre di più che gli Strongout tendano a diventare una band alternative rock e vaffanculo l'alternative rock non è quello che ho voglia di ascoltare quindi diciamo primo singolo da rivedere e in attesa di quello che sarà il nuovo album del quale ripeto sono molto molto curioso perché sarà il primo disco con il nuovo batterista e quindi vedremo nel bene e nel male sicuramente qualche cambiamento per la band di Sydney Valley andiamo avanti e parliamo di una band per lo più sconosciuta segnalatomi dal buon vecchio Moyan infatti vi segnalo l'uscita del disco degli High Praise che è la sideband di Charlie degli Nervals ha fatto uscire questo EP di 5 pezzi e personalmente a me è piaciuto molto 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 ah, di questo EP della canzone degli Strongout e di tutto il resto di cui parlerò in questa puntata avrete il link qui in descrizione quindi evitate di chiedermelo nei commenti proseguiamo con un'altra band segnalatemi dal buon Moyano e si parla di Ramona band che esce sotto Red Scare Industries la canzone che vi segnalo si chiama Panama by Ben sinceramente non ero molto gasato dopo aver letto il nome della band Ramona non dice niente, mi sembrava una cover band Ramona invece band molto molto interessante come al solito bravo Moya per consigliarmi queste chicche che poi io giro a voi andatevele a sentire, il disco si presume sarà una bomba perché il sound è qualcosa di molto fico proseguiamo e ora parliamo di Much The Same e personalmente il loro concerto di Agosto a Cesena sarà uno per il quale sono più a impatto in assoluto e hanno fatto uscire un pezzo dopo 13 anni di silenzio e quindi c'era molta molta attesa rispetto a questa canzone un po' come successe il mese scorso per il pezzo dei Sigar e anche in questo caso posso dire che le attese sono state ripagate il pezzo te lo trovo in descrizione l'agumo uscirà invece il 26 luglio e si chiamerà Everything is Fine di solito non parlo di artisti folk anche perché il folk punk o l'acustico in generale un po' mi rompe le palle però sempre per Red Scare Industries è uscito il disco di Billy Lyar che è un artista che già da anni sta girando sulle scene però questo dovrebbe essere il primo album ufficiale quindi vi segnalo questa canzone da ascoltarvi che si chiama The Ratus and the Rats che a parer mio è molto molto carina nuova canzone anche per gli amatissimi CX Dig It la band canadese infatti ha fatto un nuovo pezzo per uno split in onore del tour giapponese il pezzo si chiama Yukiko ed è molto molto carino ed è sempre molto bello ascoltare qualcosa di nuovo dei CX Dig It come al solito il loro stile rimane assolutamente invariato e quindi è tutto perfetto così sono invece usciti due B-side molto molto carini per i Mazingers questi B-side sono presi dalle registrazioni di After The Party e quindi registrate nel 2016 e devo dire che cazzo ce ne fossero di band che si possano permettere di tenere pezzi come questi come B-side veramente due canzoni bomba e questo fa ben capire quanto fosse ispirata in quel periodo la band di Philadelphia per quel che riguarda le nuove canzoni dei Blink e degli Off with the Reds ho fatto due video dedicati qua sul canale quindi approfondisco l'argomento e se volete sapere il mio parere andatevi a beccare questi due video che vi trovate naturalmente qui in descrizione e... ah ragazzi ognuno ha la propria opinione vi può andare bene la mia vi può stare sul cazzo però cercate di non offendere cosa che ho visto che qualcuno ha fatto sotto il video dei Blink però chi cazzo se ne frega delle offese tra l'altro mi hanno dato del Veneto non so se è un'offesa sinceramente non mi sembra un'offesa ma credo che dal mio accento si capisca bene che sono romagnolo però andiamo avanti ah ragazzi nuova canzone anche dei Maladrois band francese che se segui questo vlog da tempo sai benissimo che amo tantissimo la canzone si chiama Rapper Lover e non è una delle loro tracce migliori però è sempre bello sentire i Maladrois che fanno qualcosa di nuovo speriamo a breve esca qualcosa di nuovo mentre qualcosa di nuovo uscirà anche per gli Screeching Weasel infatti hanno postato sui loro social alcune foto che al momento sono in studio quindi questo vorrà dire che entro la fine di quest'anno probabilmente inizia l'anno prossimo uscirà un nuovo disco voi siete gasati per la nuova uscita degli Screeching Weasel fatemi sapere qua nei commenti finisco di parlare delle band straniere poi toccherà un grandissimo capitolo sulle band italiane parlando dei pub che hanno fatto uscire un nuovo video che personalmente a me è piaciuto tantissimo Billing Rivarli si chiama la canzone ed è un video un po' alla Draw My Life ma vattelo a vedere perché da descrivere non è sicuramente facile andiamo ora invece a tutte le uscite italiane che in questo giugno sono state tantissime ah, se anche tu hai una band e vuoi segnalarmi l'uscita contattami su Instagram a cantahc666 io mi ascolterò il disco e poi ne parlerò in uno di questi video spiegone partiamo adesso quindi parlando dei Bad Frog che hanno fatto uscire il nuovo disco sotto Arrosti Records il disco si chiama Glow Tilde vs Matilde ed è un tipico disco di punk italiano e quindi se siete da degli amanti del genere credo che questo disco farà a caso vostro sempre rimanendo in ambito punk italiano ma un punk italiano totalmente anomalo è quello dei DNA71 o DNA71 non so come si pronuncia probabilmente DNA71 perché se cantano in italiano il numero si dirà in italiano vabbè e hanno fatto questo disco che si chiama Giovani per sempre e sì, fanno punk lo fanno in italiano però è un punk italiano che esce totalmente dai cliché del genere a me personalmente è piaciuto molto mi sembrava di ascoltare un disco degli Hellway fa conto adesso magari non conosci gli Hellway comunque su una band americana che spaccano e quindi come lavoro mi ha colpito particolarmente andatevi a sentire vi lascio qualche pezzo qui in descrizione secondo me molto molto validi non ho fatto tempo ad ascoltare molto approfonditamente il disco perché sono state tante le cose da ascoltare in questo mese però bel sound ragazzi mi è piaciuto molto anche il sound del nuovo gruppo che esce sotto Flamingo Records e Abba Records che si chiamano i 75 e hanno fatto un EP che porta il nome stesso della band in questo caso si dice un self-titled e mi è piaciuto perché sembra di ascoltare quello che potrebbe essere stato un demo dei Green Day quindi Green Day degli inizi inizi molto molto figo e andatevi ad ascoltare è un lavoro interessante sembra veramente un lavoro estemporaneo che mi hanno registrato 25 anni fa andiamo avanti e parlo di una band della quale avrei dovuto parlare il mese scorso ma non mi sono ricordato e sì, sto parlando degli Entused crederà di voi che me l'avete segnalato nei commenti ed è uscito il loro disco Compromise e diciamo punk rock alla MXPX quindi consigliatissimo bel lavoro, molto molto fresco proseguiamo parlando degli Apart of Us che hanno fatto uscire un nuovo video che si chiama Fake Social Stars se mi piace il Melodical Core penso proprio che gli Apart of Us siano la band che faccia per voi nuova uscita anche per i miei amici The Specters che hanno fatto un nuovo video che si chiama I Got No Home bel video, molto molto prodotto e il loro sound è il classico punk rock che può fare un trio a me piacciono parecchio li conosco tutti personalmente sono dei bravi ragazzi quindi mi fa piacere poterli supportare qua su questo canale bravi ragazzi, continuate così nuova uscita anche per i Wrong Side che fanno un punk rock molto molto veloce e grezzo e il pezzo nuovo si chiama Serious Trouble e anche questa è un'uscita che mi sento di segnalare poi mi avete segnalato che è uscito anche il nuovo disco degli Antefatti che si chiama Fango non ho ancora ascoltato il disco per intero ma vi segnalo il nuovo video che si chiama Tatuarsi in Faccia per quel poco che ho sentito quindi solo questo singolo pare che la band si sia spostata da sonorità un po' più punk rock a sonorità un po' più rock quindi adesso vorrò ascoltarmi il disco per intero per capire un po' la direzione che questa storica band che conosco da tanti anni ha preso nuova band invece sono gli All War Sophia madonna che nome sofisticato che hanno fatto uscire il loro primo pezzo credo che si chiama Newcomer un croc molto molto potente che si mi è piaciuto parecchio la lista ragazzi è stata veramente lunga questo mese ed ora vi segnalo le ultime due uscite che sono entrambe per One Chord Wonder Records partiamo con i Volco che hanno fatto un nuovo singolo che si chiama Raining Shit ed è un'anteprima di quello che sarà il loro album che si chiamerà Sad Rich and Fat e sempre per la stessa etichetta è uscita la nuova canzone dei Mega che Mega qua in Romagna tra l'altro è un'offesa però ha un'offesa abbastanza buona aria comunque è uscita un nuovo pezzo dei Mega che si chiama Four Flies on Ray Velvet che credo sia appunto un tributo al film Dario Argento Quattro Mosche di Velluto Grigio che tra l'altro è uno dei miei film preferiti in assoluto della storia del cinema e il pezzo mi è piaciuto veramente tantissimo e quindi ragazzi anche per oggi è tutto spero di avervi consigliato qualche buon disco da ascoltare come avete visto è uscita tantissima roba in questo mese grazie mille per le segnalazioni state contribuendo a rendere questi video molto interessanti se mi è scappato qualcosa segnalatelo qua sotto nei commenti e in quanto a noi ragazzi ci si becca alla prossima bella la 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 la